MEC QUADRATO Simone. Timidi, riservati e apparentemente fragili, hanno entrambi dimostrato la loro grinta e motivazione, dopo ogni prova, ma soltanto uno di loro è il vincitore della settima stagione di MasterChef Italia, Simone Scipioni si aggiudica a 100.000 euro in gettoni d'oro, la pubblicazione del suo. Primo libro di ricette e il titolo di settimo MasterChef d'Italia, complimenti, Simone, in bocca al lupo per un grande futuro da chef, sfoglia la nostra galleria e rivivi gli scatti più belli dell'ultima sfida della settima stagione di MasterChef Italia.